A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, con la protezione civile che ha previsto l'allerta arancione nella parte meridionale della regione e sul versante ionico, scuole chiuse in diversi comuni piccoli e grandi dell'intera regione. Il sinaco Fiorita a Cadanzaro, con un'ordinanza contingentibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritari e compresi servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati. Era ancora la chiusura di asili nido, pubblici e privati, ludoteche, compresi le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti su tutto il territorio comunale di Cadanzaro. Analoghi provvedimenti sono stati adottati a Reggio Calabria, a Crotone ed anche a Vibbo. Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino del capoluogo ha revocato l'isola pedonale prevista su Corso Marsini. A Crotone, sempre per le condizioni meteo, è stata annullata la tradizionale processione della Madonna di Capocolonna, prevista per questa notte a Crotone. Il bollettino della protezione civile, con l'allerta arancione, non ha lasciato scelta, considerato che al pellegrinaggio avrebbero partecipato migliaia di persone che devono percorrere 12 chilometri tra Crotone e Capocolonna. Nel bollettino si prevedono in tutta la regione fenomeni temporaleschi che possono anche evolvere in nubi fraggi, anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili anche fenomeni di esondazione in corrispondenza di fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.